Keia Noglu Gol del Leverkusen Attenzione al tiro Una parata incredibile Sarà corner a disposizione Morata! E c'è il gol del Bayer Leverkusen Keia Noglu Ha spazio per tirare E il pallone finisce in gol E il pallone entra Ed è gol! Occhio perché ci arriva Il pallone finisce in rete Ma è ovviamente soltanto una consolazione Cerca la porta Palo, occasione Palla ancora buona Per un'altra